Notizia shock nel mondo dello spettacolo. Prima di iniziare, assicurati di iscriverti al nostro canale e attivare tutte le notifiche facendo clic sulla campanella, in modo da non perdere neanche una delle nostre esclusive notizie. Benvenuti su Amica Gossip, il canale dedicato alle ultime notizie e ai gossip più scottanti del mondo dello spettacolo. Il mondo dello spettacolo piange la perdita di un'amata figura, Sabrina Giambartolomei, produttrice ed organizzatrice di eventi molto nota. Le scorse ore hanno portato un'inesorabile tragedia, quando Sabrina è venuta a mancare all'ospedale Sant'Andrea di Roma, dove era stata ricoverata a causa di una malattia improvvisa che purtroppo l'ha portata via. Aveva da poco compiuto 50 anni. Il sindaco di Nepi, Franco Vita, ha espresso le più sentite condoglianze, a nome suo e di tutta l'amministrazione comunale, per questa drammatica scomparsa. La comunità di Nepi, città di nascita di Sabrina, è incredula e addolorata per questa morte così prematura. I funerali della produttrice saranno celebrati domani al Duomo di Nepi. Le reazioni di Cordoglio stanno affluendo dai social network, e tra le voci che si levano per ricordare Sabrina, c'è quella di Maria Grazia Cucinotta, nota attrice e amica del cuore della defunta. Emozionata, Maria Grazia ha scritto un messaggio pieno di affetto e dolore. Raccontando come sperava che Sabrina si risvegliasse e potesse ridare vita a momenti di risate e abbracci. Ma purtroppo, è stato un viaggio senza ritorno che ha lasciato un vuoto infinito nel cuore di tutti coloro che l'hanno conosciuta e amata. E ora, carissimi spettatori, vi pongo una domanda. Qual è il vostro ricordo più prezioso legato al lavoro di Sabrina Giambartolomei nel mondo dello spettacolo? Scriveteci la vostra risposta nei commenti, condividendo con noi i momenti più significativi che vi hanno toccato. Continuate a seguirci per altre notizie e gossip esclusivi su Amica Gossip. Grazie per essere stati qui con noi, vi aspettiamo ai prossimi aggiornamenti.